È un festival che secondo gli organizzatori funziona, con quasi 10.000 presenze e 26 incontri, oltre 70 ospiti, 7 laboratori, 3 premi e 2 mostre. In 5 giorni si sono alternati a passaggi festival della saggistica, economisti, politici, storici, intellettuali e sportivi affiancati dai giornalisti delle più importanti testate italiane. Un bilancio positivo dunque tracciato durante una conferenza stampa da Giovanni Belfiori e Giorgio Santelli del Comitato Scientifico. Appuntamenti affollatissimi, quelli al chiostro. Io penso alla presenza di Arrigo Sacchi, ma penso anche alla presenza di Sgarbi. Appuntamenti commoventi, direi, come quello sul libro legato alla strage di Pizzolungo, come quello della storia di un'imprenditrice che è stato raccontato ieri direttamente da loro. E poi la curiosità, cioè quest'anno è cambiato rispetto ai nomi. C'è stata un po' meno politica, la politica che c'è stata era interessante. La presenza di un ministro come quello dell'infrastruttura ha permesso anche un rapporto con le istituzioni locali per comprendere che fine fanno alcune grandi opere che interessano non solo questo territorio, ma tutto il territorio dell'Italia centrale. L'auspicio degli organizzatori è quello di poter ottenere anche nel 2016 fondi dalle istituzioni, in particolare dalla regione, affinché la Kermess possa proseguire e crescere ancora. L'unica possibilità di sviluppo è quella di avere delle certezze rispetto alle risorse. È un festival che costa 50.000 euro, in altre realtà questo sarebbe un festival che costerebbe il doppio, più o meno. C'è la necessità di ragionare con le istituzioni pubbliche affinché si voglia dare una mano a far crescere ulteriormente questo appuntamento. Noi del Comitato Scientifico vogliamo continuare a stare a Fano perché pensiamo che questa sia la realtà giusta e pensiamo che si debba innescare un rapporto con le istituzioni pubbliche per riuscire a comprendere se questa sostenibilità può arrivare grazie al contributo di tutti. Noi ci mettiamo il nostro, magari le istituzioni si debbano dare una mano in più. Grazie.